Ora ti darò da mangiare, Poo! Ciao, Josie! Vuoi parlare? Cosa? Ciao, Josie! Ciao! Approccio! Ho molta fame! Il mio stomaco brontola! Ci inventeremo qualcosa! Che succede? Poo, ti ho portato uno snack! Poo! Cosa? Poo è stata uccisa! Che bottitura? Sembra che l'assassino abbia lasciato delle tracce! Vediamo! Cosa? Cut-nup? Oh, tu! Gatto cattivo! Hai ucciso Poo! Verrai con me! Se sei un assassino, lo scoprirò! Ok! Ora nella stanza degli interrogatori! Vediamo! Sospetto cut-nup! Ammettilo! Sei tu l'assassino! Che succede? Dove sono? Sei un criminale? No, un poliziotto! Cosa? Sì, quindi farò io le domande! Poo! Ok! Capisco! Mi occuperò del caso! Mi aiuti? Bene! Spostiamo questo cavalletto per ora e usiamolo come lavagna per le prove! Ti piace? Ottimo lavoro! Ora indaghiamo sul caso dell'omicidio di Poo! Segniamo la scena del crimine! Povera Poo! La mia lente di gatto mi aiuterà! Interessante! Un guanto giallo! È stato indossato dall'assassino! Ha un aspetto familiare! L'assassino è vicino! No? No? Sì! Sospetto Akiwagi! Cosa? Non sono stato io! Lo giuro! Sorridi a denti stretti! Assistente? Attendila alla lavagna! Con piacere! Senti l'odore della prigione? Aspetta! Posso spiegare? Ecco cos'è successo! Sono caduto dello scaffale! Chi c'è? Poggy? Ah! La mia testa! Mi gira la testa! Ciao! Sono Poo! Ciao! Sono Poo! Vuoi giocare? Posso mangiarlo? Il palloncino è scoppiato! Oh! Non piangere! Guarda! Il mio palloncino! Non è un problema! Wow! Da paura! Grazie! Ecco cos'è successo davvero! Non ti credo! Sono sincero! In realtà, Josie dovrebbe pulire qui dentro! Sei un ispettore sanitario? Qualcosa del genere! Fammi controllare! Giallo e bianco! Te l'avevo detto! Sei strano! Ma sei innocente! Ti cancello! Sì! Fatto! Oh! È pesante! Ma quando guardo le mie cotte è subito più facile! Ti salvo io, Josie! È pesante! Huggy! Aiutami! Sbrigati, per favore! Aspetta un attimo! Tiriamo! Energia! Gustosa! Huggy, forza! Guarda che muscoli! Forte! Forte! Mettiamoci al lavoro, eh! Facile! Evviva! Siamo tutti salvi! Forza Huggy! Come ringraziamento per aver salvato Josie ti nomino mio assistente! Ecco il tuo strumento! Usalo bene! Attento! Vediamo! Allora, cosa abbiamo qui? Che succede? In nome della legge? Non muoverti! Aha! Hoppy? Un disegno di... Sei accusato di omicidio? Devo interrogarti! Oh! Che succede? Non negli occhi! Sospetto Hoppy! Hoppy! Mi hai delusa! Ma non ho fatto niente! Allora come spieghi questo? Che razza di disegno è? Non è come pensi! Ecco cos'è successo! Oh! Ha fatto il disegno! All'improvviso le è venuta una gran fame! Mi sono ricordata che forse c'era qualcosa nella scatola! Ora ti darò da mangiare! Oh! Guarda! È un bocconcino speciale! Ma è finta! Ops! Continuiamo a cercare! Forse puoi sgranocchiare il disgusto? Oh! La luce fa le bizze! Guardiamo! Che cos'è? Cibo? No! Ma guarda che bella foto! Dov'è il cibo? Beh ciao! Non ce lo siamo immaginato! No! Hoppy! Dove vai? È il pranzo! Non avrai più fame! Se lo dici tu! Vai dentro nella scatola! Il pasto è servito! Ti mangerò! Versione interessante! Oh no! Alle tue spalle! Salve! Che? Non muoverti! Criminale! Che cosa? Vuoi dire criminale carina? Sorride? Volentieri! Bene! Basta così! Siediti! Ammettilo! Hai ucciso Pooh? Assolutamente no! Mi è caduto il compasso da qualche parte! Non posso vivere senza! Hoppy ha provato a dare da mangiare a Pooh ma a lei non piaceva nulla! Ho detto ciao! Avete visto il mio compasso? Che fifone! Mi circola innocente! Oh! Cosa c'è sotto il letto? Aha! Ottimo lavoro assistente! Ecco a te! E' il mio tesoro! Mi sei mancato tanto! Non ti lascerò mai più! È fantastico e tutto! Ma chi è l'assassino? Cutnap! Ho trovato un indizio importante! Guarda! È una mela! Vedi? Ho seguito la pista! Ben fatto, Huggy! Seguiamola! Aha! Josie! A chi la bambina sta pranzando? Non farmi perdere tempo! Mi dispiace, agente! Hai esagerato! Ho mangiato troppo! E io sono stufa! Esaminerò il corpo! Bene, bene! Aha! Velo rosso! Un enorme ciuffo! Teniamolo come prova! Ma di chi? Ma certo! Corrispondi al cento per cento! Seguimi! Ammettilo! Sei tu l'assassino! Ma perché, Uri? Non ho ancora iniziato! Oh! Per cosa? Per aver lasciato i tuoi peli sulla scena del crimine! Sorridi? Ma non sono stato io! Mettilo sulla lista dei sospettati, Josie! Sì, capo! Dog Day è il nuovo sospettato! Ammettilo! Perché hai ucciso Puri? Cut Nap è urgente! Che c'è adesso? Andiamo! Ho esaminato il corpo! Penso che questo ci sarà utile per le indagini! Mi hai disturbata per questo? Guarda il resto del set! Scusa! Non importa! Dove ero rimasta? Hai ucciso Pooh? No! Assolutamente no! Come puoi provarlo? Calma, guarda! Ho ballato per Pooh! Bravo, Dog Day! Uno, due! Muovi i fianchi! Grazie! Guarda quanti soldi! Dieci su dieci! Ha un tale prurito! Che incubo! Oh! Che c'è? Mi frude la schiena! Puoi aiutarmi? Bello! Puzzi così tanto! Sei tanto ricoperto di pulci? So cosa fare! Ferma! Spruzza! Mi frude ancora! Allora facciamo alla vecchia maniera! Che te ne pare? Mi sento una persona nuova! Oh! Che ti ha fatto questo? A tutti noi! Basta piangere! Non colpevole! Ma chi è stato allora? Siamo in un vicolo cieco! Aspetta! Che c'è nei capelli di Pooh? È sospetto! Ma quanto filo c'è? Wow! Da dove viene? Da te, Cutnap? No, no! Vediamo! Ora ti interrogo! È un errore! Sei tu l'assassino! Ti dirò cosa è successo! Pooh mi ha preso dallo scaffale! Che carino! Ciao, sono Cutnap! Io sono Pooh! Oh, guarda! Ho qualcosa per te! Ti piace? Adoro giocare con il filo! Passo al servizio! La prendo io! È meglio così! Pooh! Pooh! Che cos'è? C'è qualcosa di strano! Pooh! Dove sei? E tu che sei? No! Ecco cos'è successo! Non ne sono sicura! Aspetta! Mi guardo intorno! Non è possibile! È quel guanto! Vieni da Josie! Lo riconosci? Sì, è quello! Te l'avevo detto! Bene! Puoi condurre di nuovo l'indagine! Ecco! Mettilo insieme al resto delle prove! È questo! Kane! Katnab, guarda cosa ha trovato! Da qua! Kane! Sei sospetto! Ma dov'è il tuo bastone? Stai qui! Non muoverti! Che cos'è? Ecco il bastone! Oh, andiamo! Dove stai andando? È questo forse che stai cercando? Boh! Niente ma! Siediti, Kane! Cosa? Perché? Hai ucciso Pooh? Diciso? Vedremo! Kane! Cosa è successo? Tada! Stavo solo facendo dei trucchi di magia per Pooh! Wow! Bello! Grazie! Sei il miglior spettatore! Mostrami un altro trucco! Ok! Fiori per una bella signorina! Wow! Che sorpresa! Ed è bello! E adesso? È ancora più bello! Quanti ce ne sono? Non importa! Forza, Kane! Lo scherzo è stato un successo! Faccio vedere io uno scherzo! Ehi! È mio! Ridammelo! Oh no! Oh! Io ti ordino di... Innocente di nuovo! Kane è innocente! Ma allora chi è l'assassino? Che se fosse... Tugnap ha trovato un'altra prova! Ben fatto! Ecco a te, Josie! Sì, ma... Vieni dal cuscino! Impara, Huggy! Forza, Josie! Cerri siamo! Scappate! Wow! Ma dove sono? Muoviti! La mia testa! Sta arrivando! Al riparo! Pensate di poter scappare? Vi piacerebbe? Da quale casa inizio? Questa! Risparmia la mia casa! Prendi questo! È così impietante! Sta per distruggere la mia casa! Aiuto! Ecco, non puoi scappare ora, vero? Mi si sta spaccando la testa! Ehi, Hoppy! Oddio! Sei fregata! Ma se mi aspetta ora? Beh, verrai con me! Non mi stupisce, sai? Congratulazioni! È il mio primo pezzo della collezione! Cavolo, sono nei guai fino al collo! Come faccio a uscire da qui? C'è abbastanza spazio per tutti? Scusa, ma devo andare! Katnab, che ci fai qui? La casa è mia! Sento! The Light potrebbe essere vicina! Non riesco a vederla! La casa accanto è più solida di questa! È deciso! Mi nascondo qui! Ehi, perché sei qui? Huggy! Ti faccio compagnia! Ma perché siete tutti qui? Questa costruzione è davvero inconsistente! Oh, che noia! Ne ho abbastanza! Me ne vado! Non resterò qui da sola! Katnab! Scordatelo, c'è troppo poco spazio! In questo caso te ne vai da casa mia! No, io resto e tu te ne vai! Ai, smettetela! Ops! È lei! Mr. Light! Huggy sta arrivando! Nascondetevi! Dove diavolo siete? C'è qualcuno qui? Nessuno? E qui? Oh no! No, no, no! Quale sarà la prima casa? Decido io! Risparmiami! Questa? Cosa? No! Ah! C'è un modo veloce per abbattere la casa? Oh, sì! Fatto! Vediamo chi si nasconde sotto i pazzi! Strano! Non c'è nessuno! Ora basta! Mi avete fatto arrabbiare! Accidenti! Siamo fregati! Siamo fregati! Ora mi serve la diluppo! Favoloso! La casa cadrà in mille pezzi! Non esiste! Niente fuoco! BAM! Cosa? Un altro fallimento! Non importa! Ho un piano di riserva! Non avete idea di cosa state per affrontare? Oddio! Scopriamo chi di voi soffre il solletico! Accidenti! Attenzione! Ehi là! Chi si nasconde qui? Mi fa il solletico! Piantala! Soffro molto il solletico! Un altro! Per favore no! Non qui! Poppy! Ma dove sono? Divertitevi! Torno subito! Delight se n'è andata! Una richiesta di aiuto sarebbe gradita! Ce l'ho fatta! Un'altra nuvola! E un'altra ancora! Che bello! Nessuno? È la nostra occasione! Corri! Aspetta! Ho un'idea! Cosa? Adesso, voglio dire, dovremmo andarcene! Farò in fretta! Ma che fai? Siamo a corto di tempo! Ta-da! Un ritaglio di cartone! Oh, grazie! Tratterrà Miss Delight per un momento! Ora corri! Davvero? Beccata! Cosa? Accidenti! È di cartone! Sono uno zimbello per loro! Ha funzionato! Ce l'abbiamo fatta! È sempre nascondito! Ma a livello successivo! A quanto pare dovremmo nasconderci meglio! A dire il vero, ti vedo abbastanza bene! Ai! Tiro giù la scatola, così possiamo nasconderci! È così che si fa! Ma non riesco! Non sono abbastanza forte! Ti aiuto io! Possiamo farcela insieme! Avvicinati! Oh, è un flop! E se usassimo il pugno di Mario? Oh, non funziona nella vita reale! Guarda! È la nostra via d'uscita! Oh, sì! Evviva! Abbiamo un posto dove nasconderci! Questa è la mia scatola! È mia! Prendine un'altra! No! L'avevo addocchiata prima io! Lasciala andare! Non lo farò! Oh, davvero? Allora dormi! È stato facile! Sono fuori dai guai! Vediamo dove è Miss Delight! È vicina! Oh, Dog Day sta ancora dormendo! Devo aiutarla! Non posso abbandonarti così! Stai ferma! Molto meglio! Vai nella scatola! Ci sono un sacco di scatole! Quale scelgo per prima? Oh, quella alta! Ora la distruggo! Oh, no! Oh, sì! Andiamo! Oh, no! Oh, sì! Di nuovo! Smettila! Mi sto divertendo un mondo che si nasconde qui! Per me è finita! Aspetta un attimo! Sento russare! Un messaggio! I miei cari amici sono in pericolo! Sto venendo a salvarvi! Qualcuno sta dormendo profondamente! Vediamo chi è! Sì! 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 Cosa faccio? Svegliati! Dog Day non è un buon momento per un pisolino! Ti sveglio io! Forza! Oh, che musica! Oh, no! Non questa canzone! Non posso fermarmi! A quanto pare ha funzionato! Buongiorno, ragazzi! Ops! Eila! Per favore, non ora! Prese! Non è il mio giorno fortunato! Un altro pezzo per la mia collezione? Cosa succede ora? Io ci provo! Devo uscire! Ops! Mi ha vista! Cerchi di scappare? In questo caso diventerete tutti dei peluche! No, 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 no! Non potete più scappare, adesso, vero? Devo scappare per salvarmi la vita! E adesso! Non funziona! Non posso nascondermi nelle scatole! Cosa posso fare? C'è solo una via d'uscita! Mi dispiace, Topolino! Non c'è altro modo! Ma devo farlo! Dove ti nascondi, Micio Micio? Ti ha trovato! Oh! Perché sei così tremolante? No! No! Qui ci sarà una porta! C'è qualcuno in casa? Cosa? Un topo? Li odio! I topi hanno un modo tutto loro di rovinare le cose! Ora sono furiosa! Un'ultima scatola! Un'ultima scatola! È davvero finita! Catnap, cosa c'è che non va? Presto, ha bisogno di aiuto! Mettetevi in salvo! Ehi ragazzi! Qualcuno mi pagherà? Spero che sia abbastanza! Ho un'intolleranza alle carote! Paga con i soldi! Ok, ok! Prendi e vai! Buon viaggio! Ehi, siamo in pericolo! Oh, giusto! Cos'è successo? Perché posso vedermi? Sapete cosa mi è successo? Scrivetelo nei commenti! Aspetta, so cosa fare! È ora di mangiare! Smettila! Abbiamo cose più serie da gestire! Dobbiamo scoprire cos'è successo! Controlliamo! Ehi, sono qui! Non mi vedete? Sono morta il giorno del mio compleanno! Che ironia! Ragazzi, sono qui! Sto bene, vedete? Va bene, non possono sentirmi! Sembra che non riesca a toccare i vivi! Ma posso sistemare il problema! Ecco, così va meglio! Trovate! Ragazzi, guardate! È un messaggio da catnap! Oh no, qualcuno deve averla uccisa! La assaggio! Fermati! Dobbiamo essere più seri! Basta scherzare! Dovrò fare tutto da sola! Nessuno lascerà la scena del crimine! Dobbiamo trovare tutti gli indizi! Ottimo! Dog Day? Ancora? Per favore, aiutatemi! Perché non riescono a vedermi? Come posso aiutarli? Oh, è il telefono di Hoppy! Hai perso un indizio? Ehi! Maledizione! Oh, dovrebbe funzionare! Wow! Aspetta! Evviva! L'hanno capito! Questa è la nostra foto! Hoppy il tuo telefono! Diamo un'occhiata! Niente di sospetto! Ehi, guarda! Non sono uscita bene! È preoccupata per questo? Devo eliminarla urgentemente! Non puoi cancellare le prove! Sei sospettata! Che razza di scherzo è questo? Penso che tu sia l'assassina! So cos'è successo davvero! Oh sì, la mia arma geniale è quasi pronta! Nessuno potrà resistere! Devo solo renderla meno visibile! Perfetto! Nessuno immaginerà che la fotocamera sia in realtà una pistola! Proviamo! Centro! Eccellente! È il piano perfetto! Facci una foto! Ok! Va bene! Semplicemente meraviglioso! Un secondo! Non dimentichiamo la candelina! Accendila! Siamo pronti? Eccellente! Sorridete! Un'altra! Oh no! Povera Catnap! Allora è stata lei? Cos'è questa sciocchezza? È solo un normale telefono! Faccio una foto! Vuole uccidermi! Dammi qui! Vai! Ehi! Oh no! Lo sapevo! Sei l'assassina! Smettila! Non vedi? Non è successo niente! Strano! Cosa c'è che non va in lui allora? Oh che luce! È chiaro si è solo accecato! Ma allora chi è l'assassino? Potresti essere stato tu! Ah! Dio addio alla vita! Non mi sento bene! Oh! Sapevo che era lui! Non sono stato io! Confessa! So cos'è successo! Hai aspettato il momento giusto! E quando tutti eravamo distratti hai allungato la mano e hai messo fuori combattimento Catnap! Che ragazzo subdolo che sono! Catnap cosa c'è che non va? Di cosa stai parlando? Beh, come possiamo spiegarlo altrimenti? Controllami le tasche se vuoi! Da dove arriva? Sei un mago? Wow! Fammi provare! Che tiene i dolcetti in tasca? Ridammelo! Aspetta, ci deve essere qualcos'altro! Cionbelle! Ah, vuota! Beh, niente di grave! Ho anche i marshmallow! Giù le mani! Questi marshmallow sono miei! Quello che nascondevo era questo anello! Wow! Che romantico! Oh! Volevo farmi la proposta! È davvero per me? Volevo farti una sorpresa, tesoro mio! Quindi non è per me! Traditore! Questo è il giorno più felice della mia vita! Riposa, tesoro mio! Lascia che ti legga una favola! Molto tempo fa! Non interrompere, è interessante! Lascia dormire Catnap! Aspetta, penso di sapere chi è l'assassino! Vieni qui, non cercare di ingannarci con le favole! Hai ucciso Catnap? Oh, non sospettavo di lui! Oh, non riesco nemmeno a prendere i popcorn! Ne ho abbastanza! Bene, per favore, continuate! Confessa, non ti stavi mordendo gli artigli in vano! Sicuramente li stavi affilando e poi li hai immersi nella schiena di Catnap! Oh, no! È orribile, non riesco nemmeno a immaginarlo! Non l'ho fatto! Sul serio? Hai invitato un maniaco a casa mia? Beh, non puoi farla franca! Se non è vero, allora mostraci le tue mani! Scusate, pulirò tutto! Che schifo! Cosa è? Nutella! È più buona se la mangi con le mani! Servitevi! È davvero pazzo! Non rifiuterò! Super! No, no! Questo è un indizio! Buonasera! Dov'è la festeggiata? Ops! Un attimo! Svegliati! Situazione di emergenza! Andiamo! Cosa? Ciao, ciao! Ciao, Catnap! Ti ho portato un regalo! Fermati! Mettilo con gli altri, per favore! Ti aiuto! Grazie! Allora vi state divertendo? Fermati! Non puoi andare oltre! È un pigiama party! Sì, sì! Ah, lo sapevo! Sono arrivato preparato! Mi sdraierò con voi! Questa è l'ultima cosa di cui avevamo bisogno! Via dalla mia festa! Ehi! Wow, ha funzionato! Ve la farò vedere! Ehi, il mio cappello! Chi è stato? Confessa! Tanto non puoi vedermi! Oh, che imbarazzo! Cosa? Cosa sta succedendo qui? Ho paura! Cercate l'assassino! Oh, sono tornata nel mio corpo! E tu? Oh no! Sembra che la casa sia impazzita! Per favore, basta! Fammi finire di mangiare! Nascondetevi! Farò una seduta spiritica! Sembra che abbiamo un fantasma in casa! Iniziamo! Oh sì, penso di vedere! È fuori di testa! Finalmente! L'occhio che tutto vede ci dirà tutto! Non spaventarmi! Ok, contatteremo lo spirito! Questo non è cibo! C'è qualcuno? Uh! La tavola ha detto di no! Allora chi ha risposto? Ok! Sfera, dici cos'è successo! Evviva! Finalmente la mia festa! Ho aspettato così tanto per questo giorno! Oh, quanto mi dà fastidio tutto questo! Perché non può essere tutto come voglio che sia! Il fantasma non era contento! Catnap non lo lasciava in pace! Non fai altro che peggiorare le cose! Cos'è questo rumore? È Dog Day! Ridammelo, è mio! Calmatevi! Oh! Oh! Ho vinto! Sbrigati! Kaya! Kaya! Cosa c'è? Dov'è? Oh! Fregati! Sembra che se ne sia andato! Penso di aver capito! Il fantasma arrabbiato ha solo aspettato il momento giusto! E mentre stavamo scattando la foto, ha ucciso Catnap! Ouch! Sì, sembra plausibile! È davvero successo così? Non lo so! Sono a corto di idee! Continuiamo la nostra ricerca! Evidentemente ci è sfuggito qualcosa! Abbiamo bisogno di qualche indizio! Wow! Guardate! Era sulla torta! Ma certo! È stata la pasticcera! Ecco la tua torta! Buona giornata! Ehi, qualcuno mi serve! Cosa vorresti? Non quella spazzatura! Aspetta, sceglierò il meglio per te! Prova questo! Stai cercando di avvelenarmi? Ho detto la cosa migliore! È così difficile! Bene, ti darò una lezione! Non rovinerai più i miei dolci! Questo è per te! Così va meglio! Ora dobbiamo tirarle fuori la verità! Pronto? Sto ascoltando! Ehi, dove sono? Confessa, hai avvelenato ketchup! Cosa? È solo panna! Vedi? Oh, è stato imbarazzante! Per favore, perdonaci! Addio! Che branco di pazzi! Confischerò le prove! Mmm, buono! Vattene! È un vicolo cieco! Ehi, guarda! Ci sono le impronte di qualcuno qui! Ci condurranno all'assassino! Non c'è tempo per mangiare! Siamo su una pista! Seguitemi! Andiamo! Ah, sento che siamo vicini! Il corriere! Sicuramente è stata opera sua! Non muoverti, assassino! Dove hai nascosto l'arma del delitto? Cosa volete da me? Ed ecco i soldi! Deve essere un omicidio su commissione! Cos'è questo? Lo sapevo! È un elenco di vittime! Sicuramente stava tramando vendetta! E uno di noi sarebbe stato il prossimo! Ah ah ah! Addio! Povera cutnap! Dog Day! Lasciami andare! Ecco il tuo ordine! Cosa? Non è vero! È solo un elenco di clienti, vedete? Consegno cibo! Beh, chi non commette errori? Sembra sospetto! Ehi, è mio! Restituiscilo subito! Non avevo finito di mangiare! Continuiamo la ricerca! Chi è veramente l'assassino? Non abbiamo un solo vero indizio! L'osso? Ragazzi, è morto anche lui! È solo un osso! Ok! Ok, e per gli altri cibi? Anche il cibo per gatti è morto! Ehi, è mio! Qui sta accadendo qualcosa di paranormale! Sciocchezze! Cibo! Oh! Non hanno risparmiato nemmeno il cibo! Non possiamo farcela senza i gothbusters! Qualcuno ci ha chiamate? Spero che riescano a risolvere tutto! Puoi condividere! Finalmente sono qui! Mettiamoci al lavoro! Accendiamo lo scanner! Oh no! Una minaccia di livello 5! Che incubo! Ci sono! Oh no! È un poltergeist! Niente di panico! Useremo il sale! Non funzionerà! Buono! Iniziamo! Oh no! Allo spirito non è piaciuto! Resisti, partner! Cosa? Sono così strane! Lo sapevo! Sono solo delle truffatrici! Il film della mia giovinezza! L'ho preso! Missione compiuta! Super! Grande esibizione! Sono semplicemente incredibili! Divertente! Davvero! Bene, socia! Ghostbuster! Andiamocene da qui! Prendiamo anche questi! C'è sull'ectoplasma! Lo mangiano! Che schifo! Non so cosa fare! Deve essere rimasto qualcuno! Dog Day? Ops! Chiamo un'ambulanza! Cosa c'è che non va in me? Sono così felice! Ascolta, dobbiamo uscire di qui! Sono stanca del mondo degli spiriti! Sì, parla! Sta scrivendo! Ehi, svegliati, Dog Day! Non funziona! Più forte! Non ce n'è bisogno! Lascia fare alla professionista! Vediamo! Hai un respiro debole! Cosa puoi aiutarci? Oh no, no! Quello no! Non avrei dovuto saltare le lezioni! Oh, questo sarà sicuramente d'aiuto! Ehi, cucciolo! Un osso! Sono di nuovo vivo! Ragazzi, possiamo ancora salvare Catnap! Lei... Puoi farcela! E ciù! Che fallimento! È tutto! Buona giornata! E chi è questa adesso? Oh, che giornata! La salverò! Libera! Ancora! Oh, le è rimasto qualcosa incastrato tra i denti! Forse funzionerà! Ehi, gattina! Come vuoi! Dog Day, non osare! Oh! Sì! Sono viva! Eravamo così preoccupati! Raccontaci cos'è successo! È successo tutto all'improvviso! Oh, grazie! Quindi... Mi piaceva il ragazzo delle consegne e non volevo mettermi in imbarazzo davanti a lui, quindi... Ho deciso di controllarmi l'alito, ma mi sono dimenticata del fumo e sono svenuta! Catnap! Catnap! Quindi niente di cui preoccuparsi! Che noia! Tutto qui? Va bene, Catnap! Che noia! Che noia! E che noia! È ча noia! E che noia! chess di sorma... ... Che noia! Spera! che noia! Masia! Urznao!